Buono, siamo qui con Peter da Labbro, giusto? Sì. E che ci dici, questo non è proprio la tua categoria perché sappiamo che tu corri più su strada, giusto? Corro unicamente su strada, questo diciamo è un divertismano così, per scaricare la testa diciamo. E quindi come ti trovi in questo percorso? Ma non riesco proprio a fare di gare perché non riesco a spingere bene sui fondi sconnessi, mi diverto, è tutto un altro tipo di sport proprio. Noi siamo un po' informati su di te e sappiamo che guardando qualche video su Facebook hai dei metodi di allenamento diciamo un po' cortodossi tra virgolette. Sì, diciamo che forse quello che ti riferisci è il fatto che io praticamente taglio l'erba trainando un rasa erba con una mountain bike. Il fatto è che io ho un ettaro di prato attorno alla casa in cui abito quindi ci sono dovuto attrezzare in questo modo diciamo unisco l'utile dell'erba all'utile dell'allenamento. Poi forse un'altra cosa è il famoso carrettino con cui io vado a fare spesa, tipo a volte riporto su per la salita di marmore tutto il carico, surgelati, cibo per cani, offerte speciali varie. Però non hai pensato a portare il taglio l'erba qui oggi? No, il taglio l'erba sarebbe stato carino però... Beh, avevi molto spazio però... È completamente... l'erba in effetti in qualche tratto c'era, sarebbe stato portuto. Va bene, grazie mille, bocca al lupo, buona giornata. Grazie mille, grazie mille.